Non è una novità che gran parte degli intellettuali e filosofi televisivi italici siano orgogliosamente anti-americani e critici nei confronti della Nato e questo comporta alcune posizioni un po' strane. Infatti questo atteggiamento di anti-occidentalismo si traduce in posizioni ambigue, nella migliore delle ipotesi, come Massimo Cacciari che ha la 7, critica l'Unione Europea perché non tratta con Putin, quando in realtà l'Occidente sta trattando con Putin, ma Putin palesemente non ha nessuna intenzione di trattare. Nella peggiore delle ipotesi, posizioni putiniane come quelle di Diego Fusaro, che ormai io anche non riesco più a considerare nel consesso della filosofia italiana, però questo è un altro discorso. Però solo uno sguardo poco attento potrebbe pensare che ciò sia dovuto a un ictus filosofico improvviso. In realtà no. Nelle opere, infatti, di tre dei maggiori filosofi italiani troviamo disseminati i presupposti culturali che avvicinano enormemente questi pensatori al pensiero di Alexander Dugin. E oggi cerchiamo di sviscerare questi presupposti, l'abbiamo già conosciuto, l'abbiamo già insultato come è giusto che sia, e oggi cerchiamo di capire qual è il legame fra la filosofia italiana mainstream, quella continentale, e il pensatore di riferimento di Vladimir Putin per smascherare alcune imposture intellettuali. E lo facciamo, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Questo legame fra filosofia italiana e Dugin mica me lo sono inventato io di notte, eh. Cioè, lo dice proprio Dugin che nell'introduzione all'edizione italiana della quarta teoria politica, questo saggio delirante che crea i presupposti filosofici di ciò che stiamo vedendo oggi, nell'attualità, se volete avere qualche ulteriore indizio andate a vedervi la mia monografia su Alexander Dugin, avrete un sacco di materia utile per far girare gli ingranaggi, c'è nell'introduzione un mini capitolo che si intitola la quarta teoria politica e la sinistra, Preve Cacciari Agamben, che sono tre filosofi. Costanzo Preve, scomparso qualche anno fa, il maestro di Diego Fusaro, Massimo Cacciari che conosciamo, e Giorgio Agamben. Ecco, Dugin dice esattamente questo. E alla fine la quarta teoria politica si rivolge ai rappresentanti della sinistra italiana. In Italia si può notare un precedente già nell'avvicinamento dei tradizionalisti e degli eurasiatisti al filosofo di sinistra Costanzo Preve, morto nel 2013, mi preva un po' più vicino, che capì la necessità di un fronte comune fra destra e sinistra per contrastare la globalizzazione, l'egemonia americana e la dominazione liberale. Ma non è tutto. Se si analizzano le tendenze anticapitaliste di sinistra all'interno della filosofia italiana si notano degli autori abbastanza vicini per pensiero e impostazione alla quarta teoria politica. E qui cita principalmente Massimo Cacciari, in cui si dice unisce l'orizzonte del sogno comunista, alla natura angelica dell'essere umano, la scoperta della quale è l'obiettivo stesso della rivoluzione. Queste idee Cacciari le afferma sistematicamente nell'opera programmatica L'angelo necessario, che andremo un po' a sviscerare quest'oggi, così come in altri testi legati in un modo o in un altro all'angelogia, che è veramente un tipo di discorso filosofico, cioè lo studio degli angeli. Gli angeli intesi non come quelli del catechismo, l'angelo inteso come lo spirito portante della nostra esistenza. E anche queste sono cose che io ho già discusso nella monografia su Dugin. E poi, secondo Agamben continua, le democrazie europee della nuova epoca rappresenterebbero delle velate forme di dittatura, strutturalmente non differenti dalle forme di autorità sovrane descritte nel levitano di Hobbes o nella teologia politica di Carl Schmitt. C'è un universo, una costellazione di riferimenti filosofici che uniscono Dugin a questi autori. Heidegger, Carl Schmitt, Deleuze, Derrida, il decostruzionismo, Spengler col tramonto dell'Occidente. E infatti io quest'oggi cercherò di mostrarvi quali sono i presupposti di questi pensatori che si uniscono e vengono confermati dalle teorie politiche di Alexander Dugin. Questo non con l'intento di dire che cacciari o che per loro sono filoputiniani. Non è questo il mio, perché non credo che lo siano scientemente. Ma le conclusioni che noi vediamo nell'attualità spesso posseggono dei presupposti culturali che più o meno velatamente emergono anche nella nostra cultura. E allora non serve che un filosofo sia per forza filoputiniano per dire che il suo pensiero sostiene una Weltanschauung, una visione del mondo ben precisa che oggi viene utilizzata proprio per deviare il corso della storia. E i tre filosofi che andremo a discutere e leggere sono Umberto Galimberti, che non viene citato direttamente da Dugin, ma come vedremo, secondo me, c'è molto da discutere al riguardo, Massimo Cacciari e poi Giorgio Agamben. E l'intento è quello di metterci in guardia, metterci in guardia da un pensiero che, diciamo, superficialmente può sembrare innocuo, se non addirittura importante e costruttivo, e che poi invece porta a conclusioni e distorsioni che sono insite proprio in quel tipo di pensiero. E io credo che sia una cosa importante da fare. Ma, visto che Dugin si scaglia contro il globalismo, contro l'atlantismo, contro la lingua inglese, contro questa cultura americocentrica, eurocentrica, che appiattisce la varietà dei nostri pensieri a quel linguaggio tecnico orribile che è l'inglese, io vi invito ad imparare veramente, veramente bene l'inglese, perché è un modo ottimo per ribellarsi a queste imposture intellettuali. E quindi ringrazio lo sponsor di questa puntata, che è Cambly. Cambly è un'applicazione fantastica che ci permette, in modo semplice e immediato e molto, molto utile e fruibile, di imparare l'inglese. Come? Beh, nel modo più utile. Cioè, conversando in inglese con insegnanti madrelingua. Se, per esempio, sei uno studente di chimica che deve imparare la chimica organica e deve fare delle lezioni in inglese, Cambly ti permette di trovare l'insegnante madrelingua giusto per te, che parla in inglese, che parla di chimica e che ti fornisce il lessico tecnico e le espressioni utili per migliorarti in quel campo del sapere. Oppure vuoi, per esempio, imparare l'inglese australiano, perché devi andare in Australia, c'è l'insegnante di madrelingua inglese australiana che fa il caso tuo. E grazie a Cambly avrai delle video chat one-to-one, che possono durare 30-60 minuti, una, due, tre volte a settimana, questo dipende da quanto tempo ed energia vuoi spendere, per imparare bene l'inglese. E se avrete accesso ai nostri vantaggi, che trovate in descrizione o in chat scrivendo il comando Cambly, potrete avere intanto una lezione gratuita di 10 minuti, che vi permette di assaggiare la qualità dell'applicazione e vedere con mano come funziona. E quando sarete convinti della bontà di quei 10 minuti, usateli e sono gratis da nazione, potrete anche avere accesso al secondo vantaggio, che è uno sconto del 50% sul piano annuale. E se fra un anno guarderete indietro e direte, adesso so meglio l'inglese, sono più globalizzato di prima, sono certo che non ve ne pentirete e quindi, con buona pace di tutti gli Alexander Dugin del mondo, imparate l'inglese. Poi anche il russo, io un giorno lo imparerò, forse il russo vedremo, però partite dall'inglese. E adesso direi di tornare a noi. Quando penso alla filosofia italiana e al suo rapporto, per me morboso, con questo anti-occidentalismo, tutto intellettuale, tutto di comodo, tutto iper-borghese, io non posso evitare di pensare a quella pagina bellissima nel libro La storia spezzata di Aldo Schiavone. Ora, Aldo Schiavone è uno storico che ha scritto molti libri legati all'impero romano, alla storia romana, e la storia spezzata è un bellissimo libro, in cui, in parte, quello che Schiavone ci dice è che la decadenza dell'impero romano è avvenuta anche perché, nel momento di maggiore esplosione culturale ed economica dell'impero, alcune personalità di riferimento avevano cominciato, senza apparenti motivi, a fare discorsi legati a una tradizione religiosa, pagana, antica, misterica, e questo ha portato proprio a un indebolimento del legame che le persone sentivano con i benefici del far parte di quella società. Beh, lungi dal dire che questa è la causa della decadenza dell'impero, sicuramente è un fenomeno interessante. E nel, mi pare, secondo capitolo, fermi tutti che guardo. Nel primo capitolo, nel capitolo Un secolo d'oro, al terzo paragrafo, Aldo Schiavone parla di un retore romano che si chiama Aristide, il quale a un certo punto fa questo discorso al Senato, fa una serie di discorsi al Senato, che sono discorsi che magnificano la storia romana, dicono quanto Roma sia grande, quanto Roma abbia unificato una grandissima parte del mondo, quanto l'economia sia florida, quanto il commercio funzioni, quanto l'imperatore sia grande. Sembra un discorso da leccaculo, che in realtà è molto interessante. Però, dice Aldo Schiavone, la cosa veramente interessante è che Aristide, così come tanti altri intellettuali, filosofi, senatori, non porta avanti soltanto questo discorso, ma fa anche altre considerazioni. Allora, vi leggo proprio perché è molto bella questa pagina. Mi raccomando, drizzate bene le orecchie e state attenti, questo sarà un video complicato, ok? Ma, dice Schiavone, per cogliere completamente il senso della valutazione Aristidea, dobbiamo cercare di reinserire il nostro testo in uno sfondo ancora più ampio. La sensibilità del tempo non era tutta nell'ottimismo che abbiamo appena misurato e non era riducibile solo a questo nemmeno lo stesso Aristide. Proprio mentre un'immagine così rosea si stabilizzava nei gruppi dirigenti dell'impero, noi sappiamo che un velo di inquietudini, di smarrimenti e di ansie cominciava a insinuarsi nelle coscienze di molti uomini di quelle stesse aristocrazie e a posarsi poco a poco sui loro animi. A tanta distanza riusciamo a identificare alcuni nuclei di questa lontana polifonia di emozioni. Al centro ritroviamo qualcosa che somiglia a una percezione sdoppiata o almeno ambivalente del mondo. La medesima realtà di cui si celebravano i fasti, le sue opulenze, la sua insicurezza, le sue larghe opportunità di vita e di conoscenza, cambiava bruscamente di segno se veniva osservata e vissuta attraverso un diverso ordine di pensieri, non più pragmatico politico ma diciamo religioso e metafisico. Essa si rivelava ad improvviso come un universo privo di significato, da cui ogni presenza divina si era drammaticamente ritratta. Uno spazio occupato da una civiltà ricca e raffinata ma spiritualmente vuota e tanto più arida e svalutata quanto meglio ne apparivano evidenti i vantaggi e le disponibilità materiali. Ragazzi scusatemi ma mi sembra di parlare della nostra epoca. Noi abbiamo un occidente che è florido, che è ricco, che funziona. Abbiamo la scienza che ci salva la vita, abbiamo un tenore di vita che è aumentato, abbiamo anche un mondo che escludendo la crisi della pandemia e altri incidenti di percorso che sono comunque inevitabili nella complicità del mondo ci ha permesso di far entrare in questo consesso di benessere quanta più gente possibile. Mai così tanta gente ha partecipato nel mondo al benessere del libero commercio e tante cose che abbiamo già detto, ok? Eppure dall'altra parte, nella nostra società in particolare, perché provate ad andare in India a sentire gente che dice questa cosa qua di chi partecipa a questo benessere, nel nostro mondo questo serpeggiante stato di inquietudine, questo bisogno di significato, ne abbiamo parlato tante volte, che si traduce nell'idea che l'occidente abbia perso l'anima, che l'occidente sia verso il suo tramonto, è così presente. E qui Schiavone fa una cosa bellissima, cioè prende delle parti di discorsi di Aristide, quello che magnificava l'impero e che sembrano proprio attuali, infatti virgolettato. La maggior parte dell'umanità deve ai sogni la conoscenza di Dio. E quindi questo pensiero misterico, mistico, new age quasi, è nei sogni che conosci la verità Dio. Oppure qualsiasi atto è impossibile senza il consenso del Dio. Anche qui un sentimento religioso misterico che contraddice il pragmatismo della politica, del funzionamento, della scienza. Oppure ancora, c'era ancora una possibilità di salvezza? Dove erano gli dèi? Era, ciò che avveniva, l'ultima manifestazione della loro potenza. Era la loro vendetta, la loro rivalsa per essere stati abbandonati, la vendetta contro gli uomini abbandonati che a loro volta avevano abbandonato gli dèi. L'abbandono degli dèi è Dugin. In pienissima epoca romana è Dugin. E non solo, come vedremo. Oppure ancora, tutta la vita del corpo è un fiume che scorre. Tutta la vita della mente, sogno e delirio. L'esistenza è una guerra, è un soggiorno in una terra straniera. La fama è oblio. Ragazzi, sembra di leggere Galimberti. E poi continua Schiavone. Intravediamo motivi di un eclettismo ridondante e inquieto, cristallizzati in un platonismo un po' febbrile, a tratti colorato da contaminazioni pitagoriche, una combinazione non infrequente, letture tumultuose, un continuo precipitare dentro se stessi, nella verità dell'anima interiore, come avrebbe poi detto Plottino. Questa pagina, per me, è una delle pagine più belle che abbia letto negli ultimi anni, perché ci mostra perfettamente come la storia si stia ripetendo. Perché anche nel nostro mondo abbiamo discorsi che serpeggiano di questo tipo da parte di persone che non esitano a dire che l'Occidente è comunque il mondo che ha sviluppato il maggior benessere. Non esitano a riconoscere la valenza del libero mercato, poi magari consumature politiche di ogni tipo. Però, al fondo, c'è questa grande denuncia. La denuncia che l'Occidente sia senza anima, che il nichilismo abbia preso il sopravvento, che abbiamo abbandonato gli dèi, e con gli dèi potete parlare dello spirito, dello spirito dei popoli, del bene supremo. Potete dire quello che vi pare. Potete riempire con qualsiasi contenuto metafisico, che in quanto tale non è un contenuto, queste e queste frasi. E avrete esattamente la morbosità che noi vediamo in questi pensatori. Con i dovuti distinguo, il parallelismo con i nostri giorni, per me, è lampante. Questo libro vi consiglio di leggerlo, perché oltre ad essere un bellissimo libro di storia, che spiega bene la decadenza dell'impero romano, mica come la spiega Galimberti, tanto per dirne di nuovo uno, qui trovi un sacco di elementi che ti dicono, guarda, è stata una crisi molto complessa, ma soprattutto l'intelligenza dell'autore sta nel mostrare la ripetizione di certi meccanismi. E a questo serve la storia, a individuare certi pattern. E allora? E allora dobbiamo chiedercelo, se avete seguito la live su Dugin, e adesso andremo ad approfondire, vi ricorderete, l'avete sentito, questo fascino, questo bisogno di una metafisica aurorale. Questa metafisica legata al mistero antico, quasi alle religioni pagane. E il distacco dalla natura, il distacco dell'uomo dalla sua vera natura, qualunque sia la sua vera natura. Questa identità perduta che ci fa mancare il significato, dimenticandoci che è l'individuo che dà significato alla sua esistenza e non certo la politica o lo spirito dei popoli. Questo bisogno, questo bisogno di ritrovare un'originarietà, l'origine. Perché nell'origine c'è la verità e nel proseguo della storia, soprattutto quando la storia è molto materialista, è il materialismo che ci salva il culo, peraltro. In questa originarietà noi troviamo l'autenticità, invece altrimenti troviamo la disperazione. Questo bisogno di recuperare un sapere misterico, religioso, di ritrovare il contatto con il logos, come continuamente ripete Alexander Dugin. Il logos, cioè questo autentico originario, il logos, che è il verbo di Dio che abbiamo dimenticato e che Heidegger chiama l'essere, è obbliato l'essere nella tecne, nella politica. Insomma ragazzi, tutta sta roba qua, tutto questo secondo me, e questo è il presupposto che io metto lì, lo metto lì, sappiate questo è il presupposto da cui parto, se non accettate questo presupposto significa che avremo visioni differenti del mondo e va bene così. Tutto questo per me è sintomo di un morboso rancore nei confronti delle conquiste culturali, sociali e civili da attribuire in larghissima parte al pragmatismo empirista e al sapere tecnico scientifico di fronte al quale la filosofia continentale prova un manifesto e terribile complesso di inferiorità. Questo è il recinto entro cui si sviluppa tutto questo tipo di discorso, questo discorso che non riesce a partecipare gioiosamente delle conquiste scientifiche e pragmatiche di un'umanità che avanza veramente, che scopre, che comprende e che può fare di meglio con la propria esistenza. E non riuscendo a partecipare gioiosamente, perché non griva, tanto per dirla un po' in Veneto, allora deve ritrovare quell'originarietà metafisica, deve tornare a fare un discorso con la religione, con Dio, gli angeli, gli dèi e Sailor Moon, perché è l'unico modo per ritrovare un po' di solidità. Non importa che quella solidità sia fatta di menzogne e menzogne e imposture, l'importante è che il filosofo ritrovi un po' la sua centralità perduta, perché altrimenti il filosofo deve tornare a fare un lavoro vero. Scusatemi questa battuta, non potevo evitarmela. Non è un caso che Galimberti, Agamben, Cacciari e Dugin trovino proprio nell'apparato tecnico-scientifico, empirico e pragmatico, il motore della loro critica. Come vedremo è proprio ciò che sta alla base di tutti i loro discorsi, tutte le loro opere, proponendo al tempo stesso, e lì chi più chi meno c'è da dire una riscoperta misterica che io ho sempre trovato folle, cioè veramente folle. Con quello che abbiamo costruito nel mondo, l'idea di recuperare il mistero, l'angelo, Dio, la religione, per me è sinceramente folle. Poi di nuovo, attenzione, va benissimo, come ho detto anche con Michele Boldrin, anzi è uspicabile che a livello individuale uno riesca ad approcciarsi alla Bibbia, alla Torah, il Corano. Io sono un lettore vorace di libri religiosi. Le Upanishad che sono portate da Dugin come la verità assoluta. Va benissimo credere che queste cose possano arricchire persone. Va benissimo leggere Jung e via dicendo, per avere un po' di comprensione di me. Ma se io poi non capisco che quella è letteratura e che la verità sta proprio nell'esperienza empirica sperimentata del mondo, allora lì sono perduto, ok? Capiamoci. Questa è la follia. E dal mio punto di vista si tratta di imposture intellettuali. Proprio come il bellissimo libro di Alain Sokal, Imposture intellettuali. Quale rapporto deve avere la filosofia con la scienza? Purtroppo in italiano vedo che non si trova quasi più. Io ho una copia a casa, comprata qualche anno fa. C'è in francese, se volete, si legge tranquillamente. Altrimenti mi sa che su Amazon la trovate però con spedizione a due o tre settimane. Vabbè, leggetelo. È un bellissimo libro, Imposture intellettuali di Sokal. Libro spettacolare che in qualche modo segna questo video. Perché questo video vorrebbe essere un monito. Come Sokal ha scritto un libro mettendo in guardia da quelle imposture intellettuali che sono stati i costruzionisti francesi, per esempio, come Derrida, come Deleuze e tanti altri, di cui anch'io mi sono innamorato per un periodo e per fortuna poi me ne sono emancipato. Allo stesso modo mi piacerebbe farlo, visti anche gli eventi dell'attualità. Quindi mi piacerebbe smascherare questi pensieri per quello che sono. Nella monografia su Dugin abbiamo parlato della visione euro-asiatica. Quindi del fatto che Dugin, che è uno dei fondatori e poi i promotori di quel pensiero che all'inizio era il partito nazionale bolshevico, che poi si è tradotto nel partito euro-asiatico e che ha una serie di connotazioni. Ribadisco, se volete avere proprio l'analisi puntuale, non è questo il video giusto, è quello. Però i principi cardine sono i seguenti. Intanto un antagonismo verace e violento contro il liberalismo, il liberalismo democratico, il rifiuto della democrazia liberale e il rifiuto dell'empirismo che sta alla base del metodo scientifico. Cioè l'idea che il metodo scientifico non porta a nessuna conoscenza, anzi porta a un nichilismo, porta alla perdita dell'uomo, alla perdita del significato e tutto quanto. In secondo luogo la riscoperta della dimensione angelica dei popoli. Ne abbiamo parlato quando abbiamo discusso del razzismo che sta alla base di questo pensiero, di questo pensatore. L'idea che ogni popolo abbia il suo angelo, angelo inteso come spirito guida, spirito che dà l'essenza del popolo. Il fatto che un russo sia differente nell'essenza rispetto a un italiano, che è il pensiero che fonda qualsiasi razzismo. L'idea di un multipolarismo antiglobalista, però al tempo stesso iper conservatore, perché questo non lo dicono mai. Cioè raga, è bella l'idea che Doug indica beh ma il mondo è multipolare. Sì, grazie al cazzo. Il problema è che il suo multipolarismo è un multipolarismo in cui nulla deve mai cambiare. Cioè il multipolarismo va bene soltanto se poi i russi restano russi, ovviamente gli ucraini non esistono, i tedeschi stanno tedeschi, i giapponesi stanno giapponesi, a Bustarsizio non si muove nessuno. Cioè è quello lì il multipolarismo di Dougin che fa ridere perché è un multipolarismo veramente fascista e completamente privo di qualsiasi fattibilità. È una chiusura del mondo drammatica, letteralmente un ritorno a un feudalesimo filosofico che io non vorrei mai vedere nella mia vita. Dopodiché in Dougin c'è questa ripresa del cristianesimo ortodosso con sfumature neopagane, anche questo è una cosa di cui parleremo sicuramente. Questa spinta espansionista russa, prima culturale e poi politica, in chiave ovviamente anti-americana, anti-occidentale, anti-europea. I riferimenti di Dougin sono peraltro Heidegger, Carl Schmitt, Julius Evola e Friedrich Nietzsche, un Nietzsche molto molto manipolato. Peraltro se noi andremo a vedere questi sono esattamente gli stessi riferimenti dei filosofi italiani che andremo poi a sviscerare un po'. I presupposti su cui si basa questa visione si ritrovano nelle opere degli autori citati. Galimberti, Cacciari, Agamben, poi ovviamente di nuovo Fusaro in realtà è uno che prende copia in colla direttamente da russo forse le cose di Dougin, quindi non lo prendono anche in considerazione. Però mi piacerebbe sviscerare perché io so quante persone qui in Italia vengono ammaliate dalle idee di Galimberti, dai discorsi di Cacciari e dalle idee di Agamben. E io non voglio togliervi questo piacere di leggere, poi penso che Galimberti quando scrive le cose che sono farine del suo sacco, quando le scrive veramente lui scrive anche cose piacevoli da leggere, però è letteratura. E la stessa cosa potrei dire di Cacciari come vedremo e potrei dirlo anche di Agamben. Se lo prendiamo come letteratura va bene, se però pensiamo che queste cose ci diano chiavi interpretative del mondo, beh signore e signori, mi spiace, finiremo male, finiremo mangiati dalla nostra stessa ignoranza. E allora mi piacerebbe smascherare questi che sono sacerdoti, non sono filosofi. E cercheremo di capire il perché. Partiamo, io ho scelto un libro per ognuno di questi autori, ok? Le considerazioni che farò possono poi essere sviluppate anche in altre opere. Sono tutti autori di cui ho letto molti libri e ho cercato di trovare qualche passaggio. Quello che farò sarà leggervi questi passaggi. Ce ne sono alcuni per ognuno di questi autori e mi sembra importante poi cercare di commentarli insieme. Partiamo con Galimberti. Allora, a Galimberti ho scelto il testo Il tramonto dell'Occidente. Potevo anche scegliere in realtà era indeciso con L'ospite inquietante, ma anche tanti altri libri. Credo che però questo sia il più emblematico perché appunto mostra questo anti-occidentalismo che è molto molto sottile e cercheremo di capire in che modo si sviluppa. È un libro del 1975. Anche quello di Cacciare è un libro di qualche tempo fa, solo quello di Agamben che ho scelto è molto molto recente. Ora, partiamo con lettura, ok? Scrive Galimberti. Ah, premessa. Sarà un video un po' più lungo degli altri. Scrive Galimberti. Il tramonto dell'Occidente è il compiersi di un senso racchiuso nella parola che dice terra della sera, o casum, ultimo bagliore di quella luce che sorta nell'aurora del mattino ha signoreggiato il giorno. Sentite questo linguaggio così letterario. La parola esprime un destino a cui non ci si può sottrarre. Il sole non si può fermare. Il tramonto è inevitabile. L'Occidente è la terra destinata a ospitare questo tramonto. Allora, già Galimberti, voi meno male sappiate come la penso Galimberti, però Galimberti fa spessissimo questo gioco di riprendere l'etimologia di una parola e di voler far passare il senso secondo cui l'etimo della parola dà non solo il significato della parola, ma anche racconta la storia di come la parola si manifesta nella realtà. Già questa è un'impostura intellettuale. Non fatevi mai gabbare da chi vi dice queste cose. Non è vero. È un espediente retorico fallace, antilogico che va rigettato. A questo aggiungo il fatto che solo per un terra piattista si può pensare che l'Occidente sia veramente il luogo dove il sole tramonta. Perché soltanto in una prospettiva occidentocentrica posso pensare che il sole tramonti a Occidente. Che cazzo vuol dire? L'Occidente è sempre un discorso assurdo. Ma vabbè, non voglio farmi accendere troppo. L'Occidente è quindi la terra destinata a ospitare questo tramonto. Ma qual è il senso custodito nella parola? Tramontare è l'inevitabile declinare della luce o è l'inconsapevole sottrarsi della terra alla luce? Cogliere il senso di questa domanda è decidersi per un'attesa o per una scelta. Il luogo della decisione è la filosofia. Ecco, è già qua un altro presupposto che possiamo tranquillamente rigettare. Ovvero quell'episodio occidentale che, sorto in Grecia nel periodo assiale dell'umanità, si è propagato in tutta la terra della sera per custodirne fedelmente gli eventi. Il destino dell'Occidente coinvolge quindi nel suo tramonto anche la filosofia. Come può allora la filosofia cogliere il senso di un tramonto che la include? È essa episodio dell'Occidente o il volto occidentale che ha espresso non le è essenziale? Anche qua, un altro presupposto enorme. Dal momento che la filosofia è in crisi, per questo per Galimberti è un altro segnale del fatto che l'Occidente è verso il suo tramonto. Sono tutte fallacce logiche eclatanti, ragazzi. Eclatanti. Ma voglio continuare perché io ho sofferto nel produrre questo video. Dovete soffrire anche voi, cazzo. Prendiamo un'altra lettura. Come si designa questo tramonto dell'Occidente? Ovviamente con la tecnica. Nella prefazione del libro leggiamo quanto segue. Ma la tecnica non ha alcun fine da raggiungere, né alcuno scopo da realizzare. Vallo a dire al mio frullatore. Non apre scenari di salvezza, non redime, non svela la verità. Vallo a dire ai vaccini. La procedure che pur nel loro rigore e nella loro efficacia, non sono mica antitecnico, ma si rivelano incapaci di promuovere un orizzonte di senso. E questa frase, promuovere un orizzonte di senso, c'è sempre in questo libro, continuamente, ma non viene mai spiegato che cacchio voglia dire un orizzonte di senso. Ma il senso dell'orizzonte di senso lo decide Galimberti? A quanto pare sì. Ma continuiamo. E sulle ceneri della categoria del senso, che dell'Occidente è sempre stata l'idea guida, si affacciano le figure del nichilismo, le quali nel proiettare le loro ombre sulla terra della sera indicano a ben guardare la direzione del tramonto. E di nuovo si torna a caso. Un tramonto già iscritto nell'alba di quel giorno in cui l'Occidente ha preso a interpretare se stesso come cultura del dominio dell'uomo sulle cose. Questa pretesa egemonica, che sottende l'intero cammino della filosofia, sia nella sua versione metafisica, sia in quella teologica e poi tecnico-scientifica, si è realizzata attraverso quel pensiero calcolante che, promosso dal principio di ragione, ha ancorato tutte le cose a fondamenti sempre più stabili che dessero appunto ragione alla volontà di potenza in cui l'Occidente da sempre si è espresso. Allora, signore e signori, scusatemi, però siamo al delirio. Intanto ragione non significa pensiero calcolante. La ragione è una cosa molto più vasta. Si dà ragione anche delle relazioni umane e il voler passare l'idea che razionalità sia solo calcolo è da sempre uno dei peggiori modi con cui la filosofia continentale cerca di denunciare la perdita dell'orizzonte di senso del sapere scientifico. Non è così. Ricordiamoci che scienza significa anche produrre ipotesi. Scienza significa anche capire la misura dell'uomo in relazione agli eventi. Quindi, sta roba che in realtà siano solo calcolatori, quando facciamo scienza e quando usiamo la ragione, è proprio una roba odiosa. È una chiamata all'irrazionalismo più sfrenato. E poi, non contento, ci butta dentro anche la volontà di potenza. Eppure la hubris, la hubris di cui parla Dugin, eccolo qua il punto essenziale di Galimberti. La sua denuncia all'Occidente, in questa storia millenaria che nella filosofia trova la sua manifestazione guarda caso, è la storia di una cultura che, presa dalla hubris, vuole mettere la natura soggiogata all'essere umano. Ora, molto spesso mi è capitato di criticare idee di Galimberti, lo sapete, quando lui, quella volta da Montemagno, disse che in realtà un tempo andavamo a procacciarci il cibo e quindi c'era relazione con la natura. Adesso invece mi basta aprire il frigorifero. Grazie al cielo, grazie al cielo, posso soltanto fare quello perché ciò che poi mi permette magari di non soccombere mentre caccio un cinghiale e tante altre cose, ma queste sono cose che abbiamo già detto tante volte. Il punto è la denuncia dell'Occidente come entità che si è messa in testa di dominare la natura. E io non so come dirlo al professor Galimberti, ma non c'è civiltà nella storia umana, civiltà con la C maiuscola. È evidente che a livello tribale questa cosa è molto più complicata, ma anche a livello tribale io posso tranquillamente riconoscere un tentativo di, non dico dominio, però controllo delle variabili della natura perché la natura ci vuole morti, la natura ci vuole decomposti, la natura è entropia e la natura va avanti senza tener conto della mia esistenza così come dell'esistenza di Umberto Galimberti e la natura ci vuole cibo per i vermi perché il cibo per i vermi poi ci riporta il ciclo della vita e il re leone e tutto quanto. Ok, bene, perfetto. Nessuna civiltà si è messa in testa di non dominare la natura. Nei cinesi della dinastia Ming, negli aborigeni australiani prima che arrivassimo in Australia noi occidentali, nei russi che fanno le testate nucleari come tutti quanti e cos'è la testata nucleare se non un tentativo di dominare la natura? Cioè non c'è civiltà, non c'è cultura che non abbia cercato di amministrare la natura con tutti gli errori che si possono fare perché la natura è molto più potente della cultura. Però questa denuncia che c'è sempre in Galimberti non ha alcun senso. Galimberti si richiama a questa età dell'oro in cui l'essere umano era in armonia con la natura. L'essere umano non è mai stato in armonia con la natura. L'essere umano è sempre stato distrutto, soggiogato, messo in difficoltà dalla natura. Ricordiamocela questa cosa perché quando ce la dimentichiamo poi vengono fuori queste cose qua. Ma andiamo avanti, facciamo un'altra lettura, ve l'ho detto oggi ragazzi, si soffre ma io voglio che sia ben chiaro, ben chiaro perché bisogna essere preparati contro certe cose. Scrive Galimberti. L'idein di Platone, l'intellettualismo medioevale, il sapere scientifico dell'età moderna, sono le varie forme che la filosofia occidentale ha messo in atto nel tentativo di penetrare il mistero di questa presenza. Parla della presenza dell'essere, ok, lui usa molto un gergo heideggeriano. L'esito, nonostante il polemico contrapporsi delle varie forme, è stato ogni volta identico. Ogni volta, cioè si è posto nella soggettività dell'uomo il fondamento della presenza, con la conseguente riduzione dell'essere a oggetto per un soggetto. Poi vi spiego, eh. In possesso dell'orizzonte manifestativo, l'uomo erettosi a nuova dimora della verità, non più intesa come manifestazione, aleziaia, ma come adeguamento, adequazio, ha preteso di sapere l'essere, di realizzare in proposito una conoscenza assoluta, cioè sciolta da ogni legame che non avesse riferimento alla soggettività. Qui di nuovo cerca di denunciare questa hubris, però di nuovo ne c'è una cazzata. Perché è bellissimo, è bellissimo. E io, quando leggo Heidegger, mi sento arricchito. È un bell'autore da leggere, di nuovo. Se lo leggo come leggo Hölderlin, quindi un poeta, un letterato. Ma se prendo sul serio le cazzate di Heidegger, poi finisco male. Perché l'idea che la verità sia di svelamento, come se la natura avesse un movimento autonomo per presentarsi a me, scelto e letto fra tutti e, guarda, le cose stanno così? È una cazzata. O meglio, capita. Ma non posso farne un discorso culturale. Non posso fare una filosofia della contemplazione, in cui sto in attesa dell'illuminazione. Non siamo mica gli Eloi di Wells e delle macchine del tempo. Sono meglio i morlocchi a questo punto, che escono dalla terra e si mangiano gli Eloi. Mi dissocio. Ma è quello che fanno. Non è questo. L'adequazio, di cui Gallimberti parla con così tanto spregio, è una delle più grandi conquiste scientifiche e culturali della nostra civiltà. È da Francesco Baccone che noi abbiamo cominciato a dire, sai che forse la verità, con la V maiuscola, non esiste? E attraverso un sistema di adeguamento alla realtà, noi possiamo cogliere alcuni aspetti che ci permettono di ordinare meglio il mondo. Ah, sai che adeguarsi, che non significa sottomettersi, ma osservare, calcolare e trasformarsi in virtù del mondo che mi si presenta, sai che forse adeguarsi è meglio che affidarsi agli dèi, forse? Eh? No? Beh? E allora hai avuto Galileo, Cartesio e tutto quanto e l'adequazio è diventato il sistema di pensiero che ci ha permesso di arrivare ad avere un mondo in cui la gran parte delle persone riesce a emanciparsi da quei dogmi che prima ordinavano la vita con delle fantasie tipo i dogmi religiosi. Questa è l'adequazio. L'adequazio è quella che ha permesso a Darwin di capire alcuni dei fenomeni più importanti del nostro mondo naturale. A me dispiace che Umberto Galimberti abbia così tanto complesso di inferiorità nei confronti dei genetisti e dei biologi e dei chimici, ma io mi dissocio dall'idea che da quel complesso di inferiorità si debba rispondere tornando alla lezzeia. Ragazzi, ma a lezzeia che? La lezzeia di Putin? La lezzeia della storia che si svolge davanti a noi? La lezzeia di Hegel che guarda Napoleone e dice ecco lo spirito del mondo che si dispiega? Ma di cosa stiamo parlando? Ma sul serio siamo ancora lì? Sul serio? Aggiungo, ricordatevi che la filosofia russa è una filosofia molto legata alla filosofia della storia. Cioè il pensiero di Dugin secondo cui in fin dei conti è la storia, ad essere il soggetto vero dello spirito e via dicendo è una cosa che è molto presente in tutta la filosofia russa ed è una cosa molto presente nel pensiero proprio di Galimberti. Ma andiamo avanti eh! Ne ho! Ne ho! Ne ho tantissime! In questo trapasso, scrive Galimberti, la fondamentale esperienza dell'essere si esprimeva nella parola originaria e si perde e la nuova parola manca di genuina consistenza. Anzi avverte Heidegger, la mancanza di fondamento del pensiero occidentale comincia proprio con questo genere di traduzione e questo non per effetto della parola come tale ma per il mondo che essa porta con sé e a cui appartiene. Il trapasso infatti non è da parola a parola ma da mondo a mondo. Dal mondo dell'epifania, appunto la lezzeia, il disvelamento, il mistero che si fa carne, eh? Dell'epifania dell'essere a quello del suo oblio. In questo senso il pensiero cristiano, scrive Heidegger, è un'ontologia greca sradicata. È l'incomprensione della problematicità e dell'apertura in cui Platone e Aristotele lasciarono i problemi centrali. Se avete confusione, eh, se dite, ma cosa sta dicendo? Ho tanta paura e sento freddo. Non siete i soli. Perché è un coacervo di espressioni astruse, di rimandi mai spiegati, di sottigliezze mai sviscerate e di frasi che sembrano così affascinanti ma che poi non vogliono dire niente. È continuamente così. E questa è proprio la dimensione sacerdotale di questi pensatori. Ma andiamo avanti. A un certo punto scrive, mi sento un po' in colpa per portarvi tutte queste letture, ma ragazzi è necessario. È un veleno necessario. A un certo punto mi fa anche incazzare perché prende e manipola palesemente il messaggio di Spinoza, a cui sapete io sono un po' legato, e scrive, a fondamento di questa misura c'è la volontà di potenza, per la quale le cose valgono non perché sono, ma perché sono atte a soddisfare i bisogni dell'uomo. Cioè qui di nuovo l'idea che l'uomo, dominando la natura, trasforma gli enti in strumenti per il suo proprio piacere. La prossima volta che trovo Galimberti al ristorante gli dico guarda che quella ragosta non è un ente che deve soddisfare il tuo piacere. Ma continua. All'essere delle cose si sostituisce il loro valore, ossia la loro idoneità per quegli scopi che l'uomo ha valutato degni di essere raggiunti. Anche qua, come se ci fosse una ragione dittatoriale che decide che le cose della natura si usano in un certo modo. Ma non è così, perché proprio l'adequazio di cui abbiamo parlato prima ci ha portato a un sistema in cui lo scopo delle cose è continuamente negoziato, è continuamente rivisto. Galimberti si dimentica, ma non si dimentica inconsapevolmente, sa di lasciarlo da parte per portare avanti il suo discorso, si dimentica che quell'empirismo, quel saperi scientifico, quell'oblio dell'essere, quell'adequazio, dall'altra parte ci ha portato allo sviluppo di un pensiero fondato sul dubbio, ma non il dubbio nichilistico, il dubbio di cui Dugin parla, no? Il dubbio che ci porta a dire ogni convinzione, ogni traguardo, ogni cosa che io riterrò verità assoluta, va valutata con un bel respiro e può essere rivista. E questo non è relativismo, questo invece è l'atteggiamento proprio dell'essere umano che capisce i propri limiti. Quindi Galimberti, con un impostore intellettuale che ritroviamo anche in Alexander Dugin e in questi pensatori aurorali, fa una assoluta conclusione errata sul fatto che l'uomo occidentale è preso da questa hubris. Non è hubris, è l'esatto contrario. Il sapere scientifico è il momento in cui l'essere umano capisce che è limitato e in quanto limitato ogni convinzione, ogni osservazione, ogni ipotesi avrà bisogno di essere rivista e revisionata perché sarà non inconcludente, ma incompiuta. Altro che hubris. Questi vogliono farvi credere che l'Occidente tracotante ha sempre voluto dominare la natura, invece è una cazzata. A dominare la natura sono sempre state le tirannie dogmatiche che si convincevano che la pioggia era manifestazione degli dèi e il fine della pioggia era quello di far fiorire le piante. Non è così. La pioggia è un fenomeno naturale che possiamo sfruttare e diversificare e possiamo scoprire continuamente nuove cose. Ma questi se lo dimenticano. Perché? Perché fa comodo dimenticarsi le parti veramente veramente importanti di ciò che stai criticando. E poi un'ultima lettura qui dal Galimbertone Nazionale. E questa lettura, aspettate un attimo perché il mio ebook mal sopporta anche lui queste cose, a un certo punto scrive, è inutile illudersi. Grazie. Solo mutando il proprio atteggiamento da dominatore in ascoltatore dell'essere, l'uomo può riscoprire religione e senso. Il sentiero indicato attende viandanti, ma la luce che il tramonto concede consente ancora di scorgere la via. La domanda si riferisce alla possibilità ermeneutica dell'uomo contemporaneo. Ermeneutica qui non significa metodo interpretativo, ma, come vuole Heidegger, capacità di una lingua di accogliere il senso del linguaggio originario. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Ma, ma ste fantasie, dominatori in ascoltatore dell'essere. Tutto questo libro ci porta avanti l'idea che in fin dei conti l'essere umano occidentale, così tracotante, che ha dominato la natura. E ha trasformato la natura in oggetti con uno scopo, come se poi noi non fossimo trattati come scopo dalla natura. Sì, siamo, ripeto, nutrimento per i vermi. Come se questo uomo tracotante dovesse abbandonare la sua proattività nei confronti del mondo. Non andare sulla luna, non scoprire la meccanica quantistica, non metterti a disquisire sulle leggi della fisica, perché sei piccolo e limitato. Lo decide Galimberti, ovviamente. Qual è il limite della tua conoscenza? Perché la scienza non è conoscenza. La scienza, ovviamente, non pensa. È evidente. È meglio pensare all'eterno, come Severino, e via dicendo. E ragazzi, ma di cosa c'è? Ma veramente ci convinciamo di queste cose qua? E bisogna trasformarsi in ascoltatori dell'essere. Contemplatori. Mettersi, piazzarsi sul divano e avere un reddito di cittadinanza filosofica. Ok, io contemplo la natura, non agisco sulla natura che tanto è benevola, e così sto in armonia con la natura, e chissà come riuscirà a sopravvivere. Ragazzi, ma capite che questo è proprio l'indebolimento di ciò che è il nocciolo della nostra cultura. Cultura scientifica. Cultura di attività sulla natura. Attività che deve sempre migliorarsi, perché riconosce i propri vicoli ciechi ed errori. Mentre un pensiero misterico aurorale non è autocritico, è dogmatico. Tutti gli ingredienti di Alexander Dugin in questo libro ci sono, uno dopo l'altro. Certo, sono più ben educati, sono presentati in modo più suadente, democristiano, con queste frasi. Dugin è duro, e io preferisco Dugin perché almeno è chiaro, almeno è chiaro in quello che dice. Calimberti non è chiaro in quello che dice, eppure lo sta dicendo. E poi vorrei aggiungere un'altra cosa. Prendere Heidegger come riferimento in tempi di crisi non è una buona idea, perché per quanto io, come sapete, ci ho fatto la monografica, ed è un pensatore che ho letto e apprezzo in alcune sue parti, però noi dobbiamo ribadirla questa cosa qua. Il legame fra il pensiero misterico e il nazismo ci porta ad accorgereci due cose. In primo luogo, Heidegger non fu nazista per convenienza, non fu nazista perché capitò, fu nazista perché i presupposti del suo pensiero sostenevano proprio quell'idea di originarietà misterica di cui i nazisti si nutrivano perché erano dei perfetti rincoglioniti. E Heidegger si distacca dal nazismo solo quando si accorge che poi, a questa spinta e fascinazione misterica, corrispondeva comunque una politica che definire pragmatica è quasi insultante nei confronti dei pragmatici perché si accorse che in fin dei conti i nazisti non volevano contemplare l'essere, volevano massacrarlo l'essere e per fortuna con quel briciolo di consapevolezza che gli restava nella testa ha detto sai cosa? No, mi dissocio, un po' come uno streamer su Twitch qualsiasi. Però il pensiero di Heidegger è un pensiero che tiene in sé i semi del nazismo, così come il pensiero di Dugin tiene in sé i semi di questo euroasiatismo di cui Putin è forse soltanto la punta dell'iceberg. E se noi non ci accorgiamo dei semi sparsi di queste imposture nel pensiero che sta alla nostra base, rischiamo di perderci, rischiamo di convincerci che Darwin fosse uno stronzo e Heidegger avesse capito tutto. E signore e signori, se uno vuole veramente soccombere in questo mondo, deve proprio pensarla in quel modo lì. A questo aggiungo, ricordatevi che il fascino per l'esoterismo misterico è alla base di qualsiasi tirannide. Non c'è stato un sistema tirannico che non fosse pregno di esoterismo, pregno di mistero. I nazisti ce l'avevano, l'Unione Sovietica ce l'aveva, il fascismo italiano ce l'aveva, tutti i tiranni nel novecento e anche molto prima si fondavano su questo fascino per il mistero. Sapete perché? Perché il mistero fonda l'autorità. Se c'è il mistero tu puoi avere soltanto preti, sacerdoti e guru e non certo pensiero critico. E questo è il primo capitoletto su Galimberti. Adesso passiamo a Cacciari. Allora Cacciari è scritto un libro nel 1986 che si intitola L'Angelo Necessario. È un libro che andrebbe letto insieme a un altro libro che è icone della legge. Però quello è un libro, ecco mi fa ridere visto quello che vi leggerò, molto più complicato rispetto all'Angelo Necessario. Quello che leggeremo adesso vi farà capire perché questo sembra farci ridere. Però sono libri molto molto legati. Il punto fondamentale è che in questo libro L'Angelo Necessario citato a più riprese da Dugin nel suo libro e non solo in questo libro noi troviamo altri presupposti fondamentali che riscontriamo in questi diversi pensatori. Allora vi faccio, vi propongo qualche lettura, un paio di letture in questo caso, un po' di meno. Tenetevi forti ovviamente perché questo è un libro che definire un delirio è proprio essere gentilissimi, ok? Le forme della comunicazione angelica, le forme della comunicazione angelica si distinguono per principio da quelle del vedere e apprendere sensibili. Già qui ci sta dicendo una cosa importante che l'angelogia, cioè questo studio degli angeli, differisce per genere di conoscenza dalla conoscenza sensibile, ovvero quella empirica. E questo è un libro che si dice dall'angelo necessario. Infatti l'idea principale del libro è che per superare un'altra volta il tramonto dell'occidente, la crisi dei valori e la morte dell'orizzonte di senso, bisogna ritrovare quella dimensione spirituale, misterica, religiosa che lui definisce con questa angelogia e continua. L'angelo testimonia il mistero in quanto mistero, trasmette l'invisibile in quanto invisibile, non lo tradisce per i sensi. Egli, l'angelo, figura la viva presenza del mistero, ma allo sguardo della pura teoria. Teoria col TH ovviamente, questo è un libro pieno di grecismi e latinismi continui. La teoria non corrisponde alla realtà spirituale, alle realtà spirituali, come il vedere e conoscere agli oggetti sensibili, che sono altri rispetto al nostro essere. Davanti alla verità, con la v maiuscola ovviamente, l'uomo non si trova come davanti al mondo. Nel mondo egli vede il sole pur non essendo il sole, vede il cielo, la terra e ogni altra cosa pur non essendo nulla di tutto questo. Vedere qualcosa di quel paese del non dove significa invece trasfigurarsi in esso. Ispirazione neoplatonica profonda di tutta l'angelogia mistica, somma teoria come enosis, scomparsa della distinzione di soggetto e oggetto, mentre la conoscenza è distinta dal suo oggetto per alterità. Cioè questa è una chiamata, di nuovo, alla conoscenza olistica. Ragazzi, di nuovo, è il pensiero olistico, anche questo di cui Dugin è pregno. Non ci può essere conoscenza, se non considerandoci come un tutto. E di nuovo, io posso anche dire che idea fighissima. Effettivamente, quando conosco le cose, devo anche sentire in me il riconoscimento di quelle cose. Leibniz con la monodologia, abbiamo un sacco di pensatori che riescono a esprimere questo senza poi arrivare a teorie politiche che vorrebbero convincerci di come il mondo debba andare in un'altra direzione. Io posso tranquillamente essere d'accordo con questo, ma capite bene che il nostro sistema sociale, politico ed economico si basa e cresce sul fatto che noi sappiamo separare intellettualmente il soggetto dall'oggetto, cioè l'osservatore dal fenomeno osservato. Se tu mi dici che questo sistema, che è il sistema dell'adequazio di cui parlava Galimberti prima, se questo sistema tu mi dici che non è, non porta a conoscenza, perché in realtà bisogna recuperare l'angelo, lo spirito, il tutto, mi stai dicendo, mi stai facendo una critica fondamentale di nuovo a questa base di cui tutti beneficiamo in virtù di una fantasia religiosa. Cioè tu critichi la scienza non perché vuoi migliorare il sapere scientifico, ma tu mi stai dicendo che la scienza non ti fa conoscere, nonostante l'evidenza secondo cui tutti beneficiamo enormemente del sapere scientifico. Negli anni dieci del novecento abbiamo panificato l'aria, cioè vuol dire che abbiamo, grazie al sapere scientifico, grazie all'adequazio e non grazie agli angeli, abbiamo scoperto come estrarre l'azoto dall'aria. Fu uno scienziato tedesco o austriaco, non mi ricordo, e questo di fatto ha tirato fuori circa due miliardi di persone dalla fame, al punto che questo scienziato è considerato uno dei più grandi benefattori dell'umanità. Poi purtroppo ha prodotto anche delle armi chimiche, quindi non è ricordato del tutto in modo pulito, però il punto è che è grazie a quel processo di separazione fra oggetto e soggetto che noi abbiamo potuto sconfiggere la fame in una buona porzione del mondo. E prima della pandemia stavamo andando molto molto bene in quella direzione. E riprenderemo, speriamo, quella direzione il più presto possibile. Non però se ci convinceremo di fantasie. La fantasia che in realtà, la conoscenza vera, è quella che tiene conto dell'angelo, dello spirito, dell'angelo necessario. Ma di che cazzo stiamo parlando ragazzi? E in questo libro, io qui veramente ho cercato di trovare poche letture, però ce n'erano veramente tante, ma ci avrebbero sconfortati. Sarebbe diventato un rassegnato stampa. Qualche pagina dopo scrive Cacciari. Anzi, l'angelo è per l'appunto il messaggio di questa stessa dissoluzione, la dissoluzione dell'angelo nella realtà. Egli annuncia la dissoluzione della propria sostanza nella metamorfosi dei suoi segni. Ma in essa, incerto, mai sicuro, oscillante tra presenza e oblio, melanconico per lo studium sine fine che la sua stessa figura evoca, egli non desiste dal far cenno al problema della rappresentazione della propria utopia, che è, come vedremo, il problema della rappresentazione Tukur. Cosa sta dicendo? Sta dicendo, anche qui, ci sono molti layer di lettura, ok? Qui lui sta dicendo, quando noi vediamo un segno, una traccia, facciamo l'esperienza empirica, dobbiamo presupporre che in quel segno ci sia la dissoluzione dell'angelo e della sua sostanza. Cioè, il senso di questo oggetto tecnologico, che è la penna del mio Surface, o del Surface, o della testa di fede, che è un altro oggetto tecnologico, ok? Il senso di questo oggetto non sta nella sua funzione, nel modo in cui è costruito, nel chip che sta all'interno, che lo fa vibrare quando serve, nei tasti che gli danno diverse funzioni, no! Il senso, l'orizzonte di senso, sta in quell'angelo che nel segno rappresentato da questo oggetto si è dissolto. E per conoscere questo oggetto, e così, casa mia, la foresta, il cielo, la terra, la meccanica quantistica, non devo basarmi sull'esperienza empirica, funzionalista, dell'adequazio scientifica, no! Devo basarmi su questo, questo, questa, questa presenza che Cacciari stesso dice che è incerta, non è mai sicura, è oscillante far presenza oblio, e questo è un punto essenziale da capire, perché è tutto sfumato, non riesce mai a spiegarti veramente le cose. Forse perché c'è anche l'angelo in questo libro, non lo so, e quindi è sempre oscillante, incerto, e quindi è un circolo vizioso, ma il punto è che cosa posso fare io con queste informazioni? Ma veramente, torniamo in noi, facciamo i moderni un po', facciamo un po' i moderni, che cazzo me ne faccio dell'angelo dentro questa penna elettronica? Mi paga l'affitto! Cioè, perché io dovrei agire sapendo che dietro ogni segno, ogni esperienza c'è l'angelo, che sia lo spirito, l'anima, chiamatelo come cacchio vi pare? Perché? Ma soprattutto perché dovrei fondare una teoria politica su questo e dire che la decadenza dell'Occidente è legata al fatto che abbiamo dimenticato sta roba, che è esattamente l'oblio dell'essere di cui parla Heidegger? Perché dovrei abbandonare il pensiero calcolatore, la ragione, l'evidenza dell'esperienza empirica per affidarmi a un sacerdote che mi racconterà quello che gli pare dell'angelo? Perché dovrei abbandonare l'emancipazione della mia esperienza personale e dell'uso della mia testa per affidarmi alla testa di qualcuno che mi racconta frottole? Questo è il motivo per cui mi chiedo, ma com'è che si fa essere sostenitori Dugin in Occidente? Cioè, veramente come cazzo si fa? Anche qua, gli elementi ci sono tutti. La conoscenza non è un affare empirico, né tanto meno scientifico, è un affare metafisico, idea sbagliata, perché la metafisica ha un pensiero che può eventualmente dare sostegno ad alcuni saperi scientifici. Sapete che questo lo dico molto spesso? Io sono un amante di Bergson per dire, ok, e lui è proprio l'esempio di questo per quanto mi riguarda, è un affare metafisico. Idea, di nuovo, sbagliata che ci impedisce di usare la nostra testa, perché la metafisica non la mangia a colazione. C'è la fascinazione dell'angelogia e del mistero intorno all'angelo, allo spirito. E poi c'è la sacerdotificazione, parola inventata che io voglio brevettare, la sacerdotificazione della conoscenza, che quindi non richiede più l'esperienza empirica. Cacciari non ti dice, vai, tocca con mano, l'angelo, toccalo con mano, vai lì, fai sta prova e poi torna da me e mi dici come ti sei trovato. No, non è mica come il barista l'angelo, ok? Vai da quello, vai dal pedicure, ti fai i piedini, non è mica così l'angelo, ok? No, Cacciari ti dice, dice l'angelo è incerto, è sempre lì, devi individuarlo. Ed è il motivo per cui viene utilizzato questo linguaggio che definirei quasi iniziatico. Un linguaggio, di nuovo, aurorale, da profetta, non da uomo di conoscenza. Poi l'ultimo, l'ultimo è Agamben. Ce lo sbrighiamo in fretta, ragazzi, perché il video è veramente troppo lungo e spero che non abbia fatto un danno a fede con l'orario, perché io, ok, bon, perfetto. Molto più lungo di quello che pensassi, peraltro. Quando l'ho scritto pensavo comunque sarebbero stati 45 minuti di video. Invece no, invece no. Andiamo all'ultimo che è Agamben. Io ho scelto un testo che ho letto proprio poco tempo fa ed è L'irrealizzabile. È del 2022 e niente, anche qua parto con una lettura. L'idea dell'irrealizzabile, io ho scelto questo testo perché secondo me è emblematico di una delle idee fondamentali del pensiero di Agamben, cioè la corrispondenza tra possibile e reale, che è un tema molto caro alla filosofia costruttivista. Foucault, Deleuze, all'inizio dell'antiedipo scrive quella frase famosissima datemi un po' di possibile, altrimenti soffoco. No, in realtà è all'inizio dell'isola deserta, però questo è un altro discorso. E allora facciamo questa lettura. Scrive Agamben. Quando esperisco in questo senso una potenza, quando dico io posso scrivere, ciò non implica in alcun modo che io debba realizzare una possibilità in sé non reale. io posso scrivere non significa che io abbia la potenza di scrivere e conseguentemente di realizzare nell'atto questa potenza. Significa che scrivere è per me immediatamente vero e reale. È la mia forma di vita e non una potenza di cui sarei titolare. Mi fermo un secondo. no. Se vuoi scrivere, devi scrivere. Il fatto che tu possa scrivere non vuol dire un cazzo, ma non importa. Andiamo avanti. Se così non fosse, se io posso scrivere, designasse una potenza di scrivere che deve realizzarsi nell'atto, io non potrei mai scrivere. Perché dall'atto alla potenza non vi ha alcun passaggio. È come questo passaggio, questo, 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 questo brano è come mi viene in mente quell'immagine. C'è un episodio di PK, è un fumetto che sicuramente Agamben non conosce e c'è un fumetto, è proprio un episodio comico in cui uno dei personaggi va in Tibet, tipo va a fare la classica trasmigrazione dell'anima da un maestro zen. E il maestro zen gli fa, lo vedi quel muro? Quel muro lo puoi attraversare. E l'altro dice, no, è impossibile. Ma certo, pensaci. La distanza fra le particelle è un incommensurabile abisso. E lì il tizio si convince, fa, cazzo hai ragione, gli atomi sono quasi tutti vuoto, eh. Si lancia contro il muro e si spacca la faccia, ok? E a me viene in mente, non posso, non posso non pensare a quello, ok? Cioè, ve lo ribadisco questa frase, se così non fosse, se io posso scrivere, designasse una potenza di scrivere che deve realizzarsi nell'atto, io non potrei mai scrivere, perché dall'atto alla potenza non vi ha alcun passaggio. Ma, ma l'abbiamo studiato un po' di neuroscienze qua, mi viene da dire Agamben. No, evidentemente, perché la scienza non conosce. Ma nel nostro cervello ci sono proprio delle parti del cervello che sono legate al passaggio fra l'emergere di un'intenzione e l'atto. Ed è comprovato neurologicamente al netto di tutti gli angeli del mondo. È bellissima questa cosa qua. La possibilità si genera contestualmente all'atto ed è inseparabile da esso. È insieme ad esso irriducibile. In questo senso, sapere è sempre sub actu. Se mentre sento, sento di sentire e sono affetto dalla mia stessa ricettività, allora questo è per me compiutamente possibile. È insieme reale. secondo me questo è un modo per sfoltire la concorrenza. Agamben ti dice non scrivere un libro. Già ne scriviamo troppi. Lascia che compri noi miei. Ed è anche comprensibile come atto meramente commerciale. Però ho i miei dubbi. Di nuovo, anche qua, ci sono proprio idee che troviamo in Dugin. Per esempio, il primato del possibile sul reale. La potenza intesa come qualcosa che non si... che non trova la sua dimensione finale nell'atto, nel comportamento, nel risultato. Perché il risultato poi esso giaccia alle leggi dell'adequazio. Vedete che c'è? Lo vedete il fil rouge? Cioè io mi sto sforzando di farvi vedere un fil rouge che unisce questi tre pensatori presi, ad esempio, a Dugin così come l'abbiamo conosciuto. E quindi questo primato del possibile sul reale. Che peraltro è un tema molto caro ad altri riferimenti di Dugin, Deleuze e Derrida, molto utilizzati, molto citati dal filosofo russo. E io non so bene, cioè non saprei bene cosa dirvi se non... ma guardate l'esistenza, guardate la vostra vita. Lo so che magari la vostra vita fa schifo e non vi piace, vi dicendo, ma non sarà, non sarà dando un primato al possibile che la nostra vita diventerà più bella. Anzi, ci renderà più contemplativi. Allora sarà contento Galimberti, però forse smetteremo di fare veramente quello che ci serve per sopravvivere e ritagliarci una fettina di felicità nel mondo. L'idea che il possibile sia già reale. E in questo, vedete, in questo si capisce la concezione della democrazia liberale, così come è raccontata da Agamben, come già dittatura. Agamben, nei suoi libri, Homo Sacere e tutto quanto, scrive continuamente che la democrazia liberale è già in sé per sé dittatura. Ci sono un sacco di argomentazioni che lui mette nei suoi libri e ci ha fatto un'intera carriera con cui io sono palesemente in disaccordo. Cioè, ma proprio totalmente in disaccordo. È un'idea però che si richiama molto di nuovo a un altro pensatore che è stato nazista, peraltro, ed era Ernst Junger. Ed è il motivo per il quale, per esempio, nel libro Il Trattato del Ribelle, dice perché la democrazia è già di per sé totalitaria. Perché la democrazia tiene in sé la possibilità di negare se stessa. Cioè, io posso immaginare una democrazia che vota contro la democrazia e quindi diventa tirannide. Questa è l'argomentazione di Junger. Qui ovviamente è un po' più elaborata, perché ripeto, Agamben ci ha fatto tutta una carriera filosofica sopra, però è un delirio, ragazzi, ok? Però qui capiamo le posizioni di Agamben sul Green Pass. Di nuovo, non era una follia, ok? Non è una roba che viene fuori perché questo impazzisce. È in nuce al suo pensiero. Il Green Pass per Agamben è realmente come Auschwitz perché il possibile è reale. E il fatto che il Green Pass sia potenzialmente una cosa estendibile alle identità, alle appartenenze e via dicendo, allora lo fa già di per sé essere realmente dittatura. E allo stesso modo la democrazia liberale, che al suo interno ha delle cose, tipo la sorveglianza, tipo il controllo dell'identità, tipo tante altre cose, allora è già di per sé dittatura. Capite che è un pensiero che perde qualsiasi concezione, perché c'è una differenza temporale e empirica tra una democrazia liberale e una dittatura. Ci sono dei passaggi storici reali fra l'una e l'altra, così come ci sono dei gradi di separazione molto chiari fra il Green Pass, che ha portato a 500 multe in tutta Italia, e Auschwitz, che mi sembra un pochino più grave, come dire, ok? È la completa perdita della dimensione empirica della vita. Non vale più niente l'esperienza. Allora come vuoi venirne fuori da questa impasse culturale? In tutto questo, secondo la mia visione, si vede il dramma della filosofia continentale, italiana in particolare. Il rancore verso la scienza, verso l'empirismo, verso l'esperienza, che si traduce nella ripresa di quello che è un non sapere di stampo aurorale e metafisico, affascinante, religioso, con la scusa dell'autenticità. Cioè tutta questa roba qua viene portata avanti con la scusa trita e ritrita da secoli e secoli dell'autenticità, del fatto che l'uomo non è più se stesso, l'uomo non è più autentico, l'uomo è sradicato, è disperso, è atomizzato, è sfanculato. È la scusa più stupida del mondo perché nessuno sa qual è la natura dell'essere umano. Non si può affondare una teoria politica su questo. Posso al massimo io individualmente leggermi la Bibbia, la Torà, Borges, tutta la letteratura, i poeti. Penso a quello che mi pare per dare un po' di senso alla mia vita. Ma non si fa una teoria politica sull'inautenticità perché l'ha già fatto un filosofo ed era Martin Heidegger e ha fondato il nazismo filosoficamente per quanto poi si sia distanziato. Ora so che gli heideggeriani si incazzeranno, ma mi dispiace signore e signori, è così. A conclusione, qual è l'antidoto a queste cose qua? Ci sono due filosofi che vi consiglio come antidoto e sono due filosofi anglosassoni, cazzo. Leggete gli inglesi, leggete gli americani. Charles Sanders Peirce che smonta alla base l'idea che l'empirismo non sia conoscenza. Proprio distrugge, rade al suolo completamente i presupposti filosofici di queste imposture, dando il primato al segno. Il segno, quello di cui faccio esperienza, quello da cui trago un dato, mi porta a conoscere. Ovviamente questo ha un prezzo. Devo disfarmi della verità con la V maiuscola e di conseguenza dell'anima, dell'immortalità, di Dio, dello spirito e di Vanna Marchi. Ce ne faremo una ragione. È un sacrificio che secondo me è spendibile. L'altro autore è Richard Rorty. Io devo ringraziare questo periodo storico, Dugin, Galimberti, perché mi hanno riavvicinato a questo filosofo che io ho studiato, all'università ho amato, poi mi ci sono un po' distanziato. Adesso lo sto riscoprendo, pur non essendo in accordo con tutto quello che dice. Richard Rorty, leggetevi, purtroppo ancora non credo ci sia in italiano, però leggete, il pragmatismo come anti-autoritarismo. È un filosofo pragmatico che è scomparso non da molti anni, il quale ti dice una cosa molto chiara. Ti dice guarda, perché è da preferire il pragmatismo empirista alle religioni, alle metafisiche, a queste cazzate. Perché nel pragmatismo basti a te stesso, cioè è la tua esperienza. Sei tu che fai esperienza della vita. Non ti serve un maestro che ti dice quello che devi fare, non ti serve un maestro che ti dice come pensarla, non ti serve un mediatore fra te e una dimensione altra, non serve un guru, non serve un traduttore dello spirito universale. Basti tu. Basta usare il cervello. Basta capire e voler capire, voler approfondire, essere curiosi, provare sul campo. Se invece ti lasci convincere degli angeli, della metafisica, ti lasci convincere della lezzeia, del disvelamento, dell'autenticità, della natura, della contemplazione, avrai bisogno dei sacerdoti. Allora sei libero di farlo, eh. Allora convinciti che Galimberdi dice cose sensate, convinciti che l'angelo necessario di cacciare i cacciari ha una prospettiva politica fattibile, convinciti persino che Dugin non spara quantità di letame incredibile. Va bene, convincitene. Però sappilo che stai abdicando a quel grande demonito kantiano che è il sapere aude. Usa la tua propria testa. Emancipati dalle narrazioni su cui non hai possibilità di avere riscontro. Se questo non ti piace, allora va benissimo Dugin. Allora avrai il prossimo dittatorucolo prima del tuo cervello e poi forse della tua nazione. Allora sticazzi dell'illuminismo, sticazzi ai Leibniz, ai Kant, chi se ne frega dei segni, chi se ne frega di Darwin. Ritorniamo tutti a vestirci di paglia, dentro capanne ricoperte di merda per sperare che la pioggia non le disfi tutte in cinque minuti. Galimberti, cacciari, Agamben sono preti mancati di una religione che non deve trionfare. E io spero che almeno ai quattro ascoltatori di questa puntata quattro lampadine si accendano in testa. Proprio come Dugin, il loro pensiero non possiede quel rigore argomentativo che i cervelli pensanti dovrebbero pretendere da un filosofo. E ovviamente non dovrebbero pretendere da un prete, perché un prete non argomenta, ok? Purtroppo, e questo lo dico ed è il mio grande pessimismo per quest'epoca, la crisi intellettuale, economica, crea fame di autorità. E oggi molti preferiscono farsi allevare da un guru che pensare con la propria testa, perché pensare con la testa è faticoso e ha un costo e il guadagno è molto in là. In momenti di crisi invece vogliamo certezze. Mi viene in mente quella frase di Eraclito che per me, a conclusione di questo ragionamento, è emblematica. I molti non valgono nulla e solo i pochi sono buoni. Essere buoni significa non avere bisogno dei guru, dei sacerdoti e dei preti, e che è faticoso e quindi si è sempre di meno. Scusate per la lunghezza del video, scusate ma secondo me ci voleva e spero di essere stato chiaro e spero di non essermi fatto prendere troppo dell'emotività. Però visto che tutto è uno, il mio angelo quest'oggi mi ha detto che dovevo un po' scaldarmi. Spero comunque di aver detto delle cose sensate che siano utili a tutti voi. Se siete in live adesso proprio due minuti, pochi minuti perché è stata lunga, li dedichiamo ad ascoltare qualche domanda, condividete la puntata se siete indifferita e raga mandate a fanculo gli angeli e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao!